Ciao a tutti amici e amici di Andrew's Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ad Alpha Centauri. Mentre salvavo l'ultima partita, i Peacekeeper mi hanno contattato, nel senso che è partita la schermata che io ho per errore chiuso, ma comunque Peacekeeper Lal è riuscito a chiedermi se lo aiuterò ad attaccare gli Spartani in un conflitto. Allora iniziamo il nostro episodio con un rifiuto, perché anche se la mia intenzione è quella di attaccare gli Spartani, momentaneamente voglio capire un po' dove sono dislocati perché so che voglio colonizzare parte del loro continente. E quindi devo un attimino fare mente locale. Your Information Optical Computer vs My World Map potrebbe essere un'idea. Va bene, accetto. Perché è un fatto bene infatti. Patto di fratellanza va bene, perché no? Me ne vado. Fatemi dare un'occhiata. Abbiamo scoperto che Last Rose of Summer, che era una città dei Gaian, è stata conquistata dai fanatici fondamentalisti della sorella Miriam Godwinson. Ed è esattamente quello che volevo sapere, perché infatti adesso so dove si dovranno concentrare i miei sforzi militari. Non contro gli Spartani, ma contro i fanatici. Perché i fanatici, da un punto di vista del lore del gioco, sono i nemici acerrimi degli scienziati, mentre dal momento che noi abbiamo il police state, lo stato di polizia, Santiago potrebbe anche apprezzare le nostre manie dittatoriali e diventare una nostra alleata. Infatti adesso andiamo a parlarle subito. Eccola qua. Belligerante sempre. Mi chiede se voglio dichiarare guerra agli scienziati. Io dico al momento no. Mi dice stai attento perché io ho delle plasma senti nel di prototipo 1.3 in un esercito ad essere invincibile. Questo mi fa capire che loro sono scemi e mi vanno a dire che hanno delle unità. Le loro unità migliori sono quelle che noi abbiamo tirato fuori due o tre episodi fa e abbiamo chiamato le elite academic possono distruggere il loro esercito. E non abbiamo ancora iniziato a fare l'upgrade dell'esercito. Perché da un punto di vista tecnologico gli universitari potrebbero fare un grande salto in avanti. Abbiamo armi potenzialmente molto più forti, semplicemente dobbiamo terminare i prototipi. Ok, dammi 100 per coprire le spese e ti do gli optical computer. Allora no check, no tech. Vabbè, sembra che possiamo fare magari una proposta. Allora, voglio accesso ai tuoi dati di ricerca in cambio di un prezzo che vuoi tu. No, ci chiude il telefono in faccia. Andiamo un attimo a parlare a questo punto con Young. Ostinato. My enemy, sister medium of the believers, has ruthlessly attacked my holdings. Will you assist me in repulsing her? Cioè lei ha attaccato, ha fatto fuori Gaia e adesso sta attaccando Young. La dobbiamo fermare ragazzi. Signori, abbiamo dichiarato guerra adesso a Miriam Godwinson e dobbiamo iniziare a preparare la campagna militare perché non siamo pronti. Your information doctor in their power. In cambio della mappa. Ma stai scherzando? No. Vuoi un patto di fratellanza? Con grande piacere. E adesso che abbiamo un patto di fratellanza... Ah, perché è vero, è Young che apprezza lo stato di polizia. Santiago apprezza, penso, il futuro, quello militarista. Ok, va bene. I believe we are finished here, Zach. Ruvout. Fammi vedere le mappe di Young. Oh mio Dio. Young, ragazzi, è piccolissimo, ha tre città. E qui ci sono gli spartani che invece, caspia, altro che tre città, si sono pappati tutti i territori dei peacekeeper. E sono anche qui. Dobbiamo portare assolutamente a climatic research delle difese perché sono sicuro che quando attaccheranno, attaccheranno lì. E abbiamo bisogno adesso di unità da trasporto per andare a prendere The Last Rose of Summer e sbarcare da quell'altro lato. Per fare quello dovremmo portare comunque anche gli aerei da quel lato e iniziare a martellare i believers in modo che Young o chi per loro riesca a sopravvivere. Morgan ormai sta perdendo tutto. I... ragazzi, i believers sono davvero forti. E non stiamo parlando di believe, di Justin Bieber. Stiamo parlando di questi folli. Io nello scorso episodio pensavo di fare un prototipo di nave, colonia, di aerocolonia che andasse qui sopra a fondare una città. Piccolo problema. Adesso non abbiamo tempo di fare queste porcate. E dobbiamo cercare di portarci subito verso il confine. E anche Zaya Sunrise adesso a questo punto si difende. Dobbiamo iniziare a difenderci. Le navi costano tantissimo. Zaya è troppo piccola. Zaya lavora a un resort hospital perché è ancora troppo piccola e non ha produzione. Le altre città grandi che sono sul mare devono iniziare a lavorare a una flotta da trasporto. Non me ne frega niente se la flotta è poco difendibile perché ci penseranno gli aerei a difenderla. Ma dobbiamo essere in grado di andare al di là del mare. Al momento non ci siamo. Shift A. E Morgan è stato distrutto. The Hunter Seeker algorithm. Render your units and base completely immune to protein infiltration of any kind. Se noi portiamo a termine questa meraviglia, il nostro meno 50% di difesa dovuto al fatto che abbiamo un sacco di problemi dei nostri governi va a farsi friggere e praticamente la dobbiamo fare questa meraviglia. Non so dove ma la dobbiamo fare. Polymorphic encryption. Difesa delle probe. Ok, migliorato. Ok. Va bene. Climatic research mi costruisce qualcos'altro di difesa. Il Chaos Squad 831 mi piace molto perché ci metterà un sacco di tempo ma sarà un'unità molto forte. Teniamocela buona. Io qui vorrei vedere se ho delle unità... Adesso non riesco più a fare taming su questi vermi, è un casino. Va bene, inizia ragazzi il nostro primo viaggio aereo verso... La nostra prima battaglia ragazzi. Abbiamo vinto contro... Goldwinson. Le abbiamo fatto fuori una unità. Non si aspettava ovviamente un attacco aereo così. Ok. Automated former cannot make any more road connection in his location. Dove si trova non si sa. Ma lo automatizzeremo su qualcos'altro. University adesso ha un Airbase complex. E University adesso... Deve farmi l'Unterseeker Algorithm ma prima mi prende un Chaos... Fammi vedere la differenza tra il Needle Jet e il Penetrator. Questo vede due spazi e mi piace molto. No, teniamo allora il Needle Jet. Facciamo un Needle Jet. Quattro turni e basta. Prendiamo sulla meraviglia. Wow. By Conor ragazzi la Tree Farm che significa adesso tutti questi alberi valgono tantissimo. Ah no, beh però By Conor potrebbe fare l'Unterseeker Algorithm perché ha 16 minerali. Datemi questo. Cancella l'ordine. Perché una mezza idea... di andare qui e di fare uno di quei... di quelle miniere gigantesche. Per vedere che... per vedere che... che effetto fa. Ok, 20 turni di nuovo. Perfetto. Perfetto ragazzi. Continuiamo a buttarli giù delle unità e loro non hanno la tecnologia per difendersi dagli aerei. Posso dirlo, godo tantissimo. Ah, l'Unterseeker. Sì. Dovrei però anche costruire... No, ce l'ho già fatto, l'ho già fatto. ho già fatto l'habitat complex, quindi By Conor può salire anche a livello 8 adesso, fantastico. No, tu mi fai, come Terraform, un... Bohr Hall. Arians Addition of the Land, Lower Altitude. Ah, devo farlo su una pianura bella, bella liscia. E allora lo faremo altrove. Ah, Santiago ci vuole parlare. No, non me ne frega... non me ne frega niente. Non voglio attaccare quei skipper. E adesso ci chiede dei soldi. Adesso è proprio pazza. Ok. Qui non posso più fare unità perché ne ho fatte fin troppe. Facciamo le tree farm perché qui sopra di alberi ne abbiamo non pochi. Adesso questa si deve curare. Ok. Ho sentito un destroyed e non ho capito bene che cosa sia successo. Spero niente di male. Wow. Oh, questo mi piace tantissimo. Sky Hydroponics Lab. Significa che possiamo costruire delle... se lanciamo delle... delle orbital spaceflight, each Sky Hydroponic Lab increases the nutrient output of every base by one. Can only be produced by bases with aerospace complex, nutrient increases half for bases without aerospace complex and cannot in any event exceed the size of the base. Allora, per ogni città con un aeroporto, più uno cibo, per ogni laboratorio idroponico orbitale, per ogni città senza aeroporto più 0,5, il massimo è determinato dal numero di abitanti. Quindi potrei fare, ad esempio, 8 Hydroponic Lab e University Base avrebbe più 8 cibo, le altre città senza aeroporto avrebbero più 4, oppure più 3 se sono di 3, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo. E possiamo costruire i conventional missile, che praticamente questi vanno a bombardare e distruggere le unità e poi esplodono. E un Fission Planet Buster, che è praticamente una specie di bomba atomica. Qui abbiamo intercettato una nave. È per questo che la superiorità aerea è utile. E qui abbiamo il Needle Jet di University Base. Allora, fatemi fare una cosuccia. Ne fai un altro di Needle Jet. E questi li assegniamo a città, che al momento non hanno le quattro unità canoniche support from here. Così non abbiamo problemi di... di nessuna natura. Improvement destroyed. C'è qualcuno che mi sta bombardando, ragazzi. Sono gli spartani. Sono gli spartani con i quali siamo in guerra. Ah, maledizione. Vendetta significa che siamo in guerra. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio. Se mi guarda sia con... sia con gli spartani, sia... con... Miriam. Godwinson. Ok, è chiaro che qua abbiamo un problema dovuto più che altro a una mancanza di polizia. Dov'è? È Zaria. Ok. Allora, iniziamo a fare delle Chaos Skim Ship che si difendono con navale nella nostra unica città, il Marine Institute. Il Mir Lab adesso ha due aerei. Quindi iniziamo il bombardamento in modo molto più spinto. Addirittura la città stiamo un po' rischiando, ragazzi, ma vedo che Miriam qui sta tirando fuori l'artiglieria pesante, quindi attenzione perché se questi imbarcano le truppe è un casino. È un casino se imbarcano le truppe. Abbiamo bisogno di più aeree e di più navi. No, allora, abbiamo un nuovo motore ma non potenziamo. Fammi vedere. Ok, gli scout rover. No, questo eventualmente lo faccio io, sì. Pre-cause needlejet, yes to all. yes, yes, yes. Ok, stiamo praticamente potenziando moltissime. Abbiamo i motori a fusione. Che cosa significa? Significa che a unit reactor determines its power, the amount of damage that the unit can absorb in combat before it is eliminated. A unit can absorb 10 points of damage for each power level of the reactor. Praticamente le nostre unità avendo dei motori a fusione adesso sono più forti. è importantissimo averle. In più abbiamo il laboratorio a fusione che aumenta del 50% sempre economia e labs ed è un'altra cosa da tenere in considerazione. Mir ha il research lab, Mir mi costruisce visto che ci siamo il Chaos Interceptor oppure no, un conventional missile Mark II. Iniziamo con i missili cruise da usare per bombardare The Last Rose of Summer. che poi cercheremo di prendere. Ok, intanto abbiamo un nuovo aereo. Lo portiamo a farsi supportare da Zarya. Anche se qui Zarya Zarya portiamo in unità di polizia. che poi rimarrà qui. Ah, tra l'altro adesso abbiamo anche più possiamo muoverci più in là con gli aerei. Vanno più in là. Sunspot activity has disrupted. Non possiamo più parare con nessuno per 20 turni. Merda. E niente ragazzi non ne va bene una. Adesso che abbiamo portato la polizia qui sotto a Zarya dobbiamo mettere la polizia di nuovo a University. Non credo che i vermi facciano da polizia ma proviamo eventualmente a portarli. Non credo ma non si può mai sapere. Allora adesso abbiamo tre aerei. no mi sono bruciato un'azione penso di sì però intanto no non me la sono bruciato ho detto è una scemenza intanto ragazzi Miriam qua sta perdendo tantissime unità perché io ho dei cannoni paurosi biology school build ad complex ok biology school adesso può crescere d'accordo se vi facesse un chaos needlejet sarei felice e qui un fusion lab ok great conclave ok abbiamo trovato le vere le città originari di Miriam perché le vedete dalla dalla prima The Last of Summer aveva come dire la forma di una città di Deedra adesso invece queste sono come cattedrali sono le città religiose la capitale sua dovrebbe essere da questa parte ecco esatto queste sono queste erano di Deedra per esempio queste invece sono di Miriam no forse ragazzi forse il verme mi fa da polizia forse intanto abbiamo i fucili laser più 10 tree form benissimo andiamo avanti a potenziare la ricerca senza fermarci e ne abbiamo fatto un altro vediamo dove lo possiamo piazzare questo ok ad esempio nella città di Budishit War c'è soltanto un'unità nella città di Climatic ce ne sono tre Mirlab 3 Marine Institute 3 andiamo a Budushi a ricordarsi dove si trova sarà ancora qua perfetto è proprio è proprio sulla strada Budushi inizierà a supportare molti aerei rimani qua adesso gli distruggo anche i terraformer così per essere veramente una persona orribile questo ci dà anche punti esperienza ok Chaos Code qui ce l'abbiamo e lo teniamo va bene il prossimo sarà un needlejet anche qui sotto come potete vedere questo episodio è molto diverso dagli altri perché è un episodio completamente militare visto che non abbiamo tempo da perdere però una cosa importante Tree Farm Chaos Needle Jet Research Hospital Chaos Foil ok oh perfetto abbiamo il Chaos Foil nella nostra città l'unica città marittima adesso prendiamo il workshop prendiamo come classe il cruiser come arma il transport pod steel armor e abilità no ability un fusion destroyer transport bla 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 fusion destroyer transport dove si trova 8 turni benissimo quando avremo la nostra nave da trasporto inizieremo a portare truppe e quindi dobbiamo tirare fuori le nostre truppe iniziali unità questa va qui qui non possiamo non dirmi che a Baikon non abbiamo soltanto queste wow non abbiamo tantissime unità ah qua ce n'è una a Koopnik ok chiaro che le dovremo potenziare sono abbastanza scarse ma poco male perché comunque guardate che che botta di culo abbiamo una nave da trasporto con sopra delle truppe che abbiamo fatto affondare abbiamo distrutto tre unità in un colpo solo Barrage School qui al Chaos Needle ok basta perché abbiamo superato il limite un migra male lo posso spendere ma non non di più direi di andare sui tree form che ci sortiranno tanto e fatto anche questo Chaos Needle iniziamo la meraviglia a University Base e non ci devono più rompere le palle fatemi dare un'occhiata se trovassi altre unità come si può dire che cercano di attaccarci ok togliamo il Chaos Needle Jet e prendiamo il Hunter Seeker Algorithm 14 no ti fermi qui material pod ok qui abbiamo i i cosi della pace Byconor adesso ha un problema di felicità notevolissimo gli dobbiamo piazz aspettate un attimo l'Hunter Seeker Algorithm lo sta già facendo a Byconor e ce l'ha fra 4 turni lo sta facendo in 2 città la cosa bella di questo gioco è che è molto punitivo se ti dimentichi le cose non è che te le viene a spiegare lo fai 2 volte se non fare i tuoi facciamo a Zolotto un Hydro Pony Club e a Kopenig bella domanda cosa combiniamo qua un Fusion Lab togliamo l'Hunter Seeker Algorithm per favore e piazziamoci naval movement più 2 naval basis in tutte le città potenziamo anche le nostre navi ok stop adesso si ci si butta su Last Rose Last Rose ragazzi non ha più unità che difendono andiamo su Great Conclave ne devono produrre di nuovo e anche Great Conclave adesso è libera molto bene ragazzi che potenza ma purtroppo qui non ci arrivo ok abbiamo il trasporto che costa un po' ma ce ne facciamo una ragione adesso tu mi fai un Biology Lab e tanti saluti The Marine Institute adesso si si toglie ho ancora un po' di movimenti 2 ok posso attaccare queste cacchio di isole del profondo no dannazione sono uscito per niente ok Orbital Power Transmitter questi sono P each orbital power transmitter increases energy output at every base by one come 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 l'idroponico semplicemente ci dà energia e la raffineria vivente aumenta di 2 il supporto sulla social engineering table che è un toccasana in più abbiamo il 13 come attacco con il plasma shard allora io farei una cosa visto che ci siamo già avventurati con due meraviglie una la cambiamo in particolare quella della capitale qui daremo il children bla 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 non facciamo il controllo marittimo perché in realtà di avere più due movimento delle navi chi se ne frega ma più due supporto totale è tanta 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 roba quindi andiamo sulla living refinery qui ci si cura e qui inizia una cosa divertente andiamo sul come si faceva ad andare sul con la U ok rifacciamo fanteria plasma weapon steal abilità 1 morale upgrade abilità 2 non si può ok le rinominiamo academic hussars hussars gli useri academici questi saranno vabbè no gli useri ragazzi però sono a cavallo questi sono gli academic legendary e i legionari academici adesso costeranno un botto di soldi infatti voglio vedere devo aspettare un turno ok sono curioso di vedere quanto mi costa fare gli upgrade su quelle unità che diventeranno stratosferiche abbiamo anche un pod tecnologico che culo uh guarda è un missile qua c'è da ridere adesso qui c'è da ridere boom unità distrutta completamente senza colpo ferire adesso che costano poco li possiamo fare ogni 5 turni e portare visto che ieri ne abbiamo già abbastanza e mantenerli è un problema ok fammi vedere con la U diventi un legendary costa mille porco cane niente allora diventa una chaos infantry normale da 90 perché diventa mille perché fondamentalmente non abbiamo fatto ancora il prototipo e ci ho messo dentro di tutto appena faccio i prototipi dei legionari poi li posso usare purtroppo non posso catturare la base ma adesso metterò delle truppe dentro questa nave e sarà molto più facile allora i cruise si sacrificano dopo un attacco e voi potreste chiedervi beh ma allora usa gli aerei sì normalmente è meglio ma se avessero un'unità difensiva molto forte distruggerebbero prima quella e poi sarebbe molto più facile prendere le altre insomma bisogna usare un po' un mix di tutti e due secondo me adesso questa unità che cosa sarebbe un 421 va potenziata è essere già quindi prossimo turno qui abbiamo il needlejet sopra gli spartani e questo per me significa soltanto una cosa iniziamo a rompere le palle pure loro che hanno delle unità che fanno pietà e gliele distruggiamo invece Miriam Godwin ha un sacco di unità è che sono davvero molto scarse ok tu mi diventi un consi infatti 8312 made up raid quanta quanto spendiamo di energie per turno mi domando lo si vede qui da qualche parte non la ricordo mai scusate energy banks più 9 all'anno abbiamo 18 91 dagli income 82 dal mantenimento di strutture unità ci dovremmo focalizzare un po' di più sull'economia però però forse anche no forse riusciamo ad andare bene così aia questi rispondono dannati oh ma quasi quasi hanno rotto le palle no ho perso un aereo per colpa di questi idioti che sono sempre in mezzo alle scatole ah ragazzi non ci posso credere non ci posso credere sono arrabbiatissimo promettos virus epidemic at university base l'ospedale di ricerca ha contenuto la diffusione di una pandemia per fortuna che avevamo un ospedale di ricerca secondo me è stata una roba di spie però adesso abbiamo l'untersic e l'algoritmo ragazzi quindi le spie non ci possono più fare niente un po' citazione di Sun Tzu prima di chiudere questo episodio vediamo se riusciamo a conquistare una città, è un po' il mio obiettivo a questo punto e quindi sarà un episodio un po' più lungo del solito Fusion Lab intanto voglio vedere se no, 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 non riesco a gestire ho bisogno di gestire la polizia o qualcos'altro ma not now not now adesso curiamo le truppe cioè mi stai dicendo che io non posso spostarmi perché c'è un'altra, allora io adesso chiedo ai pacifisti di uscire dal mio territorio io li odio ci possiamo fare l'attefatto alieno scende ah, e i Piskifer l'hanno rubato finisce che io lo vado a a distruggere adesso è nostro e no, io praticamente non posso muovermi perché ho i Piskipper che fanno le zone di controllo mi viene da ridere wow gli spartani sono pronti a imbarcarsi si direbbe si, si, sono pronti a imbarcarsi ragazzi superformer il superformer ha double the speed at which the unit perform normal transforming si questi li dovremmo potenziare ma al momento non abbiamo i soldi secondo me per fare il superformer io adesso vado a fare molto presto soltanto stockpiling uno il verme anche viene con me due le navi vanno assolutamente eliminate perché se non eliminiamo le navi questi ci possono affondare la nostra nave da trasporto hanno gli aerei ragazzi attenzione perché hanno gli aerei il gioco potrebbe cambiare Miriam Godwinson ha gli aerei c'era da aspettarselo prima o poi che non saremmo stati soltanto noi però noi abbiamo avuto la superiorità tecnologica per un po' adesso noi cerchiamo sempre di andare su The Last Rose of Summer prendiamo anche questa unità saliamo sulla nave e la città di Last Rose of Summer è catturata e la prima cosa che facciamo non è un Plasma Garrison ma un Fusion Needle Jet assolutamente sbarco tutte le truppe anche questa Chaos Infantry perché dobbiamo difenderci non si può mettiamo dentro la nave a questo punto e abbiamo il Neural Grafting centro di Bioneurale aumenta tutte le unità a due punti di nemurale il Neural Amplifier più 50 side defense wow no non mi serve ce la ce la facciamo e anche Great Conclave lo andiamo a conquistare oh abbiamo un missile boom come faccio a rivermi a distruggere gli aerei mi è ignoto ma avete visto come si sono difesi bene pazzesco yes ragazzi abbiamo abbiamo rubato anche questo chiaramente qui abbiamo problemi di droni notevolissimi ma adesso i nostri aerei si spostano e andiamo a prendere il greenhouse gate questa nave si mette qui a fare difesa questo si mette a fare difesa attaccheremo con il verme l'altra città ok penso che vada meglio fermati per adesso non ho capito perché ho attaccato invece che aspettare sono stato un po' uno sciocco perché avrei potuto prendere la città ma niente allora facciamo fuori le truppe qui attorno e andremo avanti il prossimo turno che poi sarà anche l'ultimo ormai grandissima cavalcata dei nostri aerei che vanno verso il cuore del ah gli spartani ci buttano giù ah già 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 anche gli spartani allora Zarya mi fa un altro aereo un altro chaos needlejet è importante ok parliamo di spartani proviamo a fare una pace ignorano le nostre trasmissioni wow ci odiano ok stop chiudi il canale immediatamente non vogliamo parlare con Godwinson perché ne prendiamo anche Greenhouse Gate Redemption quando arrivano i plasma garrison tra quattro turni hurry up spendi 110 così ce l'abbiamo al prossimo turno qui continuano a bombardarmi chiudo le comunicazioni con tutti e cosa elimina i costi dei prototipi è fantastico com jammer voglio capire una cosa mi ha dichiarato guerra anche il pacifista si merda attiviamo i vermi qui dentro perché dovevo attaccarlo ragazzi siamo in guerra totale anche i pacifisti ci hanno dichiarato guerra non ci credo non ci credo è pazzesco ok Redemption è ancora un sacco di unità dentro ma abbiamo ancora qualche area da poter utilizzare forza niente da fare ragazzi mi sembra veramente che che siano non so invincibili però Greenhouse Gate lo prendiamo il CM Plasma garrison va benissimo e io direi con questa chiudiamo qui l'episodio lunghissimo ma siamo riusciti a strappare ben tre città a Miriam Godwinson e onestamente credo che ci metteremo davvero poco tempo a far fuori anche i peacekeeper gli spartani poi saranno un altro problema ma per adesso stiamo gestendo due fronti per fortuna che non abbiamo la vendetta contro Young anzi abbiamo un patto per fortuna amici e amiche io vi ringrazio per essere rimasti con me in un episodio di 40 minuti non me lo sarei mai aspettato ma serviva grazie per essere rimasti anche in questo episodio alla prossima grazie a tutti